A via a tutti i legionari, sono Alessio PCM e vi do il benvenuto e il bentornato sul mio canale. E oggi continueremo la nostra campagna su Victoria 2 con la nostra fantastica Scandinavia. Come al solito vi ringrazio per i commenti e vi invito a continuare così, mandandomi i vostri suggerimenti, i vostri consigli e anche facendomi domande sulle campagne che state facendo voi stessi. Quindi, due cose per cominciare. La prima è che adesso cercherò di saltare le parti più ripetitive della campagna, come quando costruisco forti, che mi rendo conto che è una bella rottura di balle guardarlo ed è anche abbastanza inutile. Quindi cercherò di andare più spedito. La seconda cosa è che adesso andrò subito a vedere i vostri commenti. Allora, The Destructor Ender propone di ampliarci, o meglio, di cercare di conquistare qualcosa in Oriente. Lui, in particolare, propone di occupare Bangkok. Però io, per quanto riguarda conquiste estereuropee, al momento stare tranquillo, non per altro, ma vorrei abbassare l'infamia al punto di essere in grado di prendere qualche provincia in Europa nel caso scoppi una guerra in cui riesco ad entrare. Poi, oltre a questo commento, naturalmente The Destructor, se hai altri consigli, falli comunque. Gabbo dice che dovremmo concentrarci sulle tecnologie navali. Infatti è quello... no, non è quello che stiamo facendo, ma è quello che andremo a fare. Infatti, se vediamo, siamo 21, 21, 21 e esercito, arriveremo a 20, mentre al navale siamo solo 12. Quindi le prossime ricerche che faremo staranno Weapon Platforms, Novel Statistic, Novel Decision Making e successivamente Steel Seamer e poi Blue and Brown Water Schools. Così riusciamo a recuperare un pochino e arriviamo perlomeno a 17. Poi, Marco Zanoletti... no, scusa, Zanoletti, ho sbagliato, ho letto male il nome. Invece non è sicuro di una cosa, effettivamente lo posso capire. Mi chiede, ma noi cosa siamo? Un regno o una repubblica? Dato che delle volte ti chiama Sua Maestà e delle volte ti chiama... ehm... mio presidente. Siamo una via di mezzo, oserei dire. Nel senso, siamo un governo democratico in cui però c'è ancora l'è, il lè, giustamente. Il là c'è una nota musicale, no, c'è il re. E essenzialmente è una monarchia costituzionale la Scandinavia. Come del resto è tuttora. Tuttora in Svezia, perlomeno, noi siamo partiti con la Svezia, quindi in Svezia, c'è, ci sono ancora i re, c'è ancora la famiglia reale, ma come in Inghilterra, non ha poteri legislativi, giudiziari, che sono affidati al Parlamento e alla Corte di Giustizia, ha più che altro funzioni di rappresentanza, stessa cosa vale per la nostra meravigliosa Scandinavia. Mentre Francesco Lafrazia dice, dato che i ricchi non fanno un cazzo, e non ha tutti i torati perché, mamma mia, ragazzi, davvero non fanno niente, tassali come lo schifo. Sì, potrei anche farlo, però non vorrei farli morire di fame, piuttosto, cioè, morire di fame no, è difficile, però non vorrei indebolirli troppo economicamente, quindi possiamo mettere le loro tasse a un 15%, mettiamo quelle dei poveri al 20%, scusate, quelle della classe media al 20%, mentre i poveri al 25%, ragazzi, stiamo abbassando di un casino le tasse, e le tariffe invece le teniamo al 25%, 35%, perlomeno per il momento. Le spese sul land sono 30%, ok? E poi, vediamo un attimo per quanto riguarda la sfera di influenza. Allora, stiamo giochicchiamo in Olanda perché c'è un casino di gente che rompe le balle. Impero Ottomano, nessuno che rompe le balle. Dynam, ci sono i giapponesi che a quanto pare vogliono rompere un po' le balle, ok? E vogliono rompere le balle anche in Cambogia, ok? Poi, dove altro stiamo influenzando? In Austria-Ungheria. Sinceramente, in Austria-Ungheria, ragazzi, mi sono anche un po' rotto le balle perché mi rendo conto che non serve a niente, quindi andiamoci a togliere il focus qua. Cioè, mi spiace non metterla nel nostro mercato interno, però davvero è, una rottura di coglioni mi buttano fuori, cioè, è un continuo avanti e indietro, quindi non ne vale decisamente la pena, perlomeno secondo me. Sapete che vi dico poi? Miglioriamo ancora le relazioni con Dynam e Cambogia e un'altra cosa che vorrei fare sarebbe mettermi in sfera una nazione sudamericana. Archeologia coloniale, allora, tutti i pop in Scandinavia prendono 0,5 di consciousness ma prendiamo 12 di prestigio, wow! Oppure 6,25 di prestigio, tutti i pop in Equatoria perdono uno di militanza ma guadagnano uno di consciousness. Preferisco avere decisamente più prestigio. Ok, quindi ho votato per la seconda opzione. Vediamo come cambia la camera alta. Reazionari perdono 0,2. Aspettate un secondo. L'Egitto... Abbiamo ricevuto una pace dall'Egitto? Perché dobbiamo trattare noi? Noi non abbiamo neanche claim sull'Egitto. Ah già, però c'eravamo in guerra. Allora, questo lo riceve l'Olanda, questo lo riceve l'Impero Ottomano, questo lo riceve l'Impero Ottomano e questo lo riceve l'Impero Ottomano. Sì ragazzi, io direi che accetto tutto quello che hanno chiesto perché tanto direi che può anche andare bene. Dai! Vediamo un po' come è cambiato il mondo. Oh ma guarda che bellino! E sapete perché l'ho accettato ragazzi? Perché Impero Ottomano e Olanda comunque sono nella nostra sfera di influenza quindi tutto quello che hanno conquistato nello specifico gli Ottomani hanno conquistato qui e qui mentre gli Olandesi hanno occupato qua finisce nel nostro mercato e questa ragazzi è un'ottima cosa. E tra l'altro posso costruire il canale di Suez perché è nella mia zona di influenza. Ragazzi, prestigio! Prestigio! Vai! Ragazzi, il canale di Suez l'abbiamo costruito noi e possiamo fare anche una vega expedition. Nel 1878-1880 Adolfo Erik Nordenskjöld col supporto di Re Oscar II che dovrebbe essere il figlio del nostro caro Bernadotte è diventato la prima persona a circonnavigare l'intero continente euro-asiatico quindi Europa e Asia con la sua spedizione vega mentre l'esistenza del passaggio a nord è stato confermato dalla metà del secolo Nordenskjöld è stato attualmente è stato il primo a navigare il passaggio e il suo ritorno a Stoccolmo nell'80 è stato largamente celebrato. Sì, siamo un po' in ritardo però ci può stare. Wow! Perdiamo anche uno di infamia! Figa ragazzi! Che bellezza! Che bellezza! Abbiamo... Ci siamo fatti un casino di punti solo di prestigio guardate quanto siamo saliti. Fantastico! Fantastico davvero! Tra l'altro ragazzi tra l'altro poi adesso avvischi però dei pezzettini perché non stiamo facendo niente di speciale crisi internazionale ok cos'è che succede? l'Austria mi chiede di supportargli la Caresi per cosa? Per cosa? Ma perché tutte e due lo chiedono a me? Crisi per la liberazione della della Romania vediamo un secondo la Romania fa parte dell'impero naturalmente austriaco ma sai che ti dico? No rifiuto mi schiererò al limite dopo non peraltro ragazzi ma cioè non sono neanche nella mia sfera quindi schierarmi così apertamente per un motivo del genere vediamo un secondo vediamo un secondo cos'è successo sì siamo interessati nella crisi uh adesso le guerre possono diventare grandi guerre oh 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 cazzo questo ragazzi vuol dire che diventeranno delle grandi guerre e l'unico modo in cui finiscano è una sconfitta totale delle altre delle altre potenze wow wow vediamo un attimo caspita 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 vediamo un secondo allora la Russia supporta gli austriaci la Germania supporta hey hey supporta i rumeni allora vediamo un secondo io non ho non ho claim su sui tedeschi fatemi controllare un secondo fatemi controllare un secondo perché teoricamente core 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 questi due sono core miei quindi ragazzi se noi dovessimo schierarci in questa guerra io sinceramente mi schiererei eh lo so lo so che suona strano ma mi schiererei al fianco dei russi però prima voglio vedere come si schierano le altre potenze vediamo se nei primi giorni si schierano cosa che succede tutti i pop in what die diventano 10% più conservatori perdo uno di militanza mizaga vai a palla vai a palla l'inghilterra supporta la germania la francia supporta la russia io voglio aspettare che l'italia si schieri il belgio vuole un'alleanza belgio perché vuoi un'alleanza no ma non non mi conviene molto vabbè dai accettiamola accettiamola per il momento accettiamola tra l'altro possiamo fare vedo delle riforme sociali e questo mi piace molto mi piace decisamente molto allora al momento abbiamo uno stipendio minimo accettabile che ci permette di far ricevere più soldi ai nostri lavoratori così come di attrarre più immigranti poi non abbiamo delle ore limitate per il giorno di lavoro potremmo metterle ci diminuirebbe la produzione delle fabbriche aumenterebbe l'attrazione degli immigranti e diminuirebbe il bisogno di beni di lusso per gli strati povero e medio condizioni di sicurezza aumenta il costo delle fabbriche e diminuisce i bisogni tutti i giorni per la gente questi sono aiuti per i disoccupati buono buono 4,57% vuole 1,96 4,12 questo 0,08 perché ne sono già messi discretamente pensioni sapete cosa ragazzi sapete cosa io voglio fare voglio fare l'healthcare assolutamente e la scuola la scuola perché ci aumenta del 10% l'efficienza dell'educazione ci aumenta l'attrazione degli immigranti l'healthcare perché ci aumenta la crescita olè così dovremmo anche tenere un po' a badi socialisti tra l'altro vediamo se ci sono tra l'altro io ho detto che andavo più veloce infatti si vede ok vediamo quanto ci costerebbe questa cosa social spending vediamo un po' al momento non ci costa ancora niente ma penso penso che arriverà fuori come cosa boh non è ancora venuto fuori niente a dire il vero vediamo l'italia continua a non schierarsi potrebbe supportare l'impero russo e se supporta l'impero russo ragazzi noi a palla ci schieriamo con loro anzi sapete che vi dico sapete che vi dico allora france ci vuole bene noi cominciamo a schierare il nostro intero esercito al confine inglese sarò l'ultimo a schierarmi perché voglio prima che l'italia si schieri dalla parte dei russi perché ragazzi questa guerra la possiamo vincere se si fa in questo modo secondo me decisamente il problema è che cazzo abbiamo tanta infamia e quanto mi costerebbe per esempio fare una core sui ragazzuoli qua acquire state 11 è ancora troppo ragazzi se riusciamo sapete che vi dico wow ragazzi è vero che possiamo approfittare di un'altra cosa avevamo fatto riunire a noi John Mayen e quasi quasi io lo rilascio un'altra volta lo rilascio un'altra volta così mi tolgo altra infamia chissà se si vuole riunificare un'altra volta poi mi da mi da altro prestigio bella domanda bella domanda tra l'altro posso vedo ampliare ancora l'esercito qua a nord se non sbaglio qua mi manca uno di ingegneri ok ok poi 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 spostiamo un attimo il reclutamento qua sotto tu dov'è che stai andando stai andando qui ok quindi il reclutamento lo metteremo qui per favore signori cominciatemi a costruire dei forti in questa zona qua lo sto già facendo qua lo sto già facendo scusate ragazzi se ve lo sto facendo vedere ma capite che se facciamo una guerra con gli inglesi una cosa del genere può essere decisamente decisamente molto utile ok adesso togliamo il reclutamento da qui dovremmo aver già reclutato in africa quello che dovevamo buras yurin ci mancava solo uno di ingegneri qua ma cazzo ma questo esercito è completo e allora potremo poi crearne un altro nelle retrovie ci sta ah però aspetta aspetta prima quello là si deve unire a quell'esercito là e poi potremo reclutarne altri vediamo se l'italia si è schierata non ancora ah cazzo però ho sbagliato a vedere mi sa che è più facile che supporti la germania più che altro perché potrebbe aggiungere un war goal mi sa vabbè allora aspettiamo aspettiamo un secondino a schierarci e adesso ragazzi vi salto un po' di tempo così vediamo se non succede niente ok ragazzi abbiamo finito di fare la tecnologia navale poi oltre a questo io vorrei fare un'altra cosa allora mettiamo la nostra flotta un attimo lì cominciamo come avevo già detto a fare un'altra ricerca navale questa frichea qui la cominciamo a spostare qua eh però se stai in mare magari mi fai un favore bello mio dai 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 ok uh Scandinavia guadagna place in the sun contro l'Italia tutti i pop diventano 5% più favore del gingoismo fino al 22 ottobre 1890 no preferisco il gingoismo non peraltro ragazzi ma mi scade prima della fine della grande guerra quindi non non avrebbe molto senso e cominciamo grazie per la scoperta minore capo dicevo cominciamo a spostare a sud anche questi eserciti qua ce ne dovrebbe essere anche una nord no non c'era non l'avevo spostata a quanto pare ho altri punti diplomatici sì eh quanto ci vuole per la perché la crisi scoppi eh la guerra scoppia fra 183 giorni acquiresate quanto ci vuole 286 cominciamo a farlo cominciamo a farlo contro la Germania e supportiamo i russi ragazzi potremmo dirigerci verso la fine con questa mia scelta però chi non risica non rosica no tra l'altro vediamo qua chi è in sfera di influenza di chi allora se non sbaglio l'argentina ha delle risorse non male vediamo se riesco in qualche modo a mettermela in sfera vediamo vediamo dai proviamo proviamoci e vediamo che succede poi Cambogia non possiamo ancora rimuovere i ragazzuoli là che bello ragazzi abbiamo appena riunificato Jan Mayen ma deve essere un cazzo di bug io adesso continuo così e continuo a togliermi infamia è bellissimo è bellissimo ragazzi cioè prestigio gratis e infamia diminuita boom e siamo di nuovo a 6.75 si continuerà così fantastico davvero meraviglioso poi per quanto riguarda Dainam no dov'è great powers ok qua possiamo diminuire l'opinione dei giapponesi ospedali militari ok perfetto e a Dainam siamo a posto Olanda uh 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 francesotti del cavolo levatevi dalle balle mia Olanda non si tocca anzi sapete che vi dico qua aumento il focus perché non ho la minima intenzione che mi freghino da sotto il naso l'Olanda ah tra l'altro magari se comincio a migliorare anche le relazioni con l'Argentina e sapete che vi dico vorrei migliorare le relazioni con l'Italia perché si schieri con noi però ho paura che che non si schieri mai dalla nostra parte vabbè proviamo a migliorarci un po' le relazioni wow fantastico eh sì come al solito facciamo questo qua non per altro ma diminuire così tanto la popolazione non penso che sarebbe molto utile facciamo andare leggermente più veloce il tempo uno due tre ah tra l'altro possiamo aggiungere i war goal se non sbaglio sto già supportando questa parte ah ma non posso aggiungere i war goal perché non siamo ancora in guerra giustamente giustamente non fa una piega questo ragazzuolo qua lo spostiamo qui adesso ok il reclutamento lo possiamo lasciare sempre nella provincia là dietro e cominciamo già a costruire altre unità australi socialisti wow militanza preferisco farli incazzare un pochino africa uno due e tre ok per quanto riguarda la flotta invece come siamo messi abbiamo quasi finito di ampliarla non male oh di nuovo ragazzi di nuovo ho riunificato un'altra volta john mayen o dan mayen o come cavolo si chiama ma figa a saperlo prima facevo così dall'inizio avete idea quante infamie guardate 1,48 l'infamia è quasi indecente come cosa ah tra l'altro è scoppiata una ribellione nel momento giusto chi sono questi qua sono i comunisti dannati comunisti adesso gli facciamo un po' al culo così almeno così almeno ce li leviamo anche dalle balle ok perfetto però qua ci sono troppe unità signori miei qua ci sono troppe unità tu ti sposti qui tu ti sposti no no facciamo che tu che sei hai l'esercito più grande e ti sposti qua la sta andando bene qua stiamo ancora reclutando e le lascerei la per sicurezza la flotta è grossina si ok facciamo ripartire ok adesso ragazzi vi skip un po' che amplio ancora i forti oh oh la grande guerra di liberazione rumena è diventata grande guerra boom è scoppiata la guerra ragazzi e l'italia giustamente è entrata dall'altra parte porca miseria porca miseria è scoppiata la guerra però sapete cosa ho sbagliato sapete cosa ho sbagliato non ho considerato il fatto che gli inglesi potrebbero sbarcare quindi questi due eserciti io li tengo lì li tengo lì perché non si sa mai decisamente non si sa mai ok 1 2 3 4 5 alziamo subito il mantenimento dell'esercito mi tocca rialzare le tasse mi dispiace ragazzi miei 60% ai poveri alla classe media gli mettiamo un bel 40% anzi si va bene va bene 40% no no facciamo 50 perché limitarci a 40% ok quindi 60 50 e voi contribuite alla causa con un bel 40% mentre per quanto riguarda le importazioni dato che adesso avremo mercati chiusi con buona parte del mondo diminuiamo però leggermente le tariffe in modo che magari riescano a procurarsi comunque le materie prime le nostre industrie poi ok siamo adesso siamo in guerra con loro ritiriamo la nostra flotta nel porto perlomeno per il momento abbiamo già qualcuno che la guidi sì adesso scusate ragazzi ma controllo un attimo i generali perché non si sa mai che magari abbiamo preso delle scamorse e non me ne sono accorto abbiamo solo 4 eserciti qua a nord ah no porca puttana pirla 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 hai delle truppe qua sopra ci sono delle truppe qua sopra dov'è che sono infatti sbarcate lì per favore ok qua rimarrei un attimo sulla difensiva va bene così e poi adesso ragazzi naturalmente con la guerra dovremo andare più lentamente perché non voglio minimamente rischiare cioè non è che non voglio minimamente rischiare non voglio correre rischi inutili quindi piuttosto preferisco andare più piano e magari saltarvi qualche pezzettino piuttosto che rischiare di perdere qualche battaglia che avrei potuto vincere e invece che per stupidità ho perso tra l'altro cominciamo anche a mobilizzare il nostro esercito cioè a mobilizzare l'esercito a mobilizzare le riserve a cazzo non avevo calcolato gli italiani però eh dai ci penseranno i francesi ad aiutarci un po' di là gli italiani non sono una minaccia grande quanto gli inglesi preferisco rimanere sul confine sul confine inglese va bene va bene va bene va bene guardate che bello il mondo in guerra tra l'altro questa è una grande guerra quindi sono sono emozionato ragazzi davvero tra l'altro penso che stavolta la germania non avrà la forza di reggere non per altro ma non combatterà una guerra su due fronti come al solito russia francia combatte una guerra su quattro fronti cioè fronte austriaco fronte tedesco fronte scandinavo e fronte francese penso che la germania farà molta fatica ti prego dimmi che questo qua non si è interrotto no meno male meno male non si è interrotto il caso spelli quindi riusciremo magari a chiedere due province alla germania e questo mi fa molto piacere per quanto riguarda invece la mappa del reclutamento vorrei che le nostre nuove truppe vadano qui ok piuttosto che lì e ok ci siamo quante truppe riusciremo a tirar su 38 unità che sono quindi 38 per 3 3 6 9 8 16 24 90 più 24 114 mila uomini beh sti cavoli mica male ragazzi mica male per davvero però adesso come prima cosa ah scusate la flotta mi stavo dimenticando di rimettere in sesto anche il mantenimento della flotta e quindi questi sono altri soldi che partono e quindi tasse che si alzano ulteriormente quindi arriviamo a un 75 a un 60 e a un 50 mentre le tariffe le faccio scendere al 10 vediamo se riusciamo a rimanere in verde ok ci siamo riusciti ah guardate i tedeschi furbacchioni che si muovono lì va bene va bene muovetevi verso verso copenhagen e io scendo e io scendo sperando di non soffrire troppo attrito perché sennò potrebbe essere una bella rottura di balle massacrate questi inglesi qua ok e cominciate ad avanzare però vi voglio vedere avanzare il più vicino possibile in modo da potervi supportare velocemente in caso di necessità ok ah caspita ragazzi abbiamo decisamente sforato con il tempo ci stoppiamo ci stoppiamo ragazzi spero sinceramente che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mi raccomando lasciate qua sotto un bel mi piace iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e consigliate questa campagna così come il canale ad amici ragazzi a via tutti e ci vediamo nel prossimo episodio di questa fantastica campagna con la scandinavia ed è scoppiata una grande grande guerra a via tutti ancora a via tutti